Musica Questo forum per noi è un obiettivo molto rilevante perché è uno sforzo che è del più enorme siamo contenti di essere venuti alla seconda edizione per offrire al mercato uno strumento completo sullo status della nostra nazione sulla certificazione energetica per cui noi siamo orgogliosi di aver intrapreso questa collaborazione con il Comitato Termotecnico e quindi ha visto il nascere di questo secondo rapporto il primo rapporto ha avuto un successo, devo dire, molto molto rilevante abbiamo una o due giorni con oltre 500 partecipanti per cui cerchiamo che il frutto del nostro secondo lavoro di questa riedizione possa essere altrettanto fondamentale Ecco, veniamo al nostro per riprodurre anche a questi a partire dal modo di a proprio futuro I gialli che partono all'attacco questi belli giovani che sono stati ambientati andate non Grazie.